Benedici questo fuoco nella festa di Sant'Antonio. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Sant'Antonio, Sant'Antonio, Sant'Antonio perché ci ha donato Sant'Antonio come modello di vita. Oggi ha ristorato la statua del nostro Santo. Nel suo discorso della montagna, Gesù ha detto che nessuno può servire due padroni. Si chiede. Intensore della donna Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.